Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video! Oggi insieme andremo ad aprire un pacco speciale! Questo pacco me l'ha inviato MilMil! Lo andremo ad aprire subito dopo la sigla! Sigla! Ora andremo ad aprire con la nostra taglia a balde! Guardate, appuntita! Wow! Allora, MilMil Natura! Ecobio, dermo, bagnoschiuma, al carbone vegetale! 98% di origine naturale, detox, formulazione micellare, aloe vera, biologica, dermatologicamente testato su pelli sensibili! Guardate! Questo qua è da 500 ml! Allora, poi c'è questo qua! Che è un sapone dermo intimo, sempre al carbone vegetale, sempre 98% di origine naturale, e sempre formulazione micellare con aloe vera, biologica, dermatologicamente testato su pelli sensibili! Guardate! Questo qua è da 300 ml, quindi poi li andremo tutti a provare insieme! E sono due! Poi! E poi c'è dentro una maschera! Una maschera dermo! Maschera viso al carbone attivo! Questa qua la provo insieme a voi in un video! Modalità d'uso! Stendere la maschera, posare sul viso facendo aderire bene la maschera, e tutti i contorni lasciare in posa per 15 minuti! Andiamo subito a provarla! Apriamo! È nera ragazzi! Ragazzi, fa un odore buonissimo! Penso che così vada bene! Penso! Facciamola aderire bene il più possibile al viso, come dice Delle istruzioni! Il naso, i contorni occhi Ecco qua! Questa di qua deve rimanere in posa per 15 minuti ragazzi! Aspettiamo, ci vediamo fra poco! Allora, questo qua, il bagno a doccia che io ho già provato Devo dire che è un bagno a doccia molto profumato E soprattutto lascia la pelle morbida e setosa Questo qua, il Dermo Intimo È molto delicato sulla pelle Essendo comunque un prodotto di origine naturale Infine, ho provato insieme a voi la maschera Dermo Che ho appena provato, come vedete non sono truccata Ma la luminosità che ho in viso è data da questa maschera qua Che ora vi faccio vedere Questa qua, io l'ho tenuta in posa Come vedete? Ben 15 minuti Mi ha lasciato la pelle idratata E liscia E comunque ben appunto nutrita Ci vediamo alla prossima recensione Grazie mille!